D'accordo, allora vi porto subito da bere. Occhio alle spalle! Sheldon, scusa, che cosa fai? Riordino i tavoli liberi, il locale è quasi pieno. No, no, aspetta, volevo dire, come mai lavori qui? Domanda più che ragionevole, è che mi sono chiesto qual è il lavoro più patetico che può fare una persona molto umile senza patente e ho trovato solo tre risposte. La prima è il casellante, poi viene il genius in un Apple Store e infine... lo stesso lavoro che fa Penny, perciò visto che odio toccare soldi maneggiati da altri e che mi rifiuto di contribuire alla svalutazione della parola genio eccomi qua!